Ciao a tutti ragazzi, qui è ARK che vi parla, finalmente, finalmente abbiamo la maledetta zombie anche su Call of Duty Mobile. Intanto partiamo dal fatto che hanno avuto dei problemi con il lancio perché hanno dovuto fare dei cambiamenti all'ultimo secondo, quindi il lancio è stato ritardato di qualche ora. A parte il fatto che appunto mi aspettavo il lancio il 22 di novembre, come annunciato da loro praticamente su tutti i canali social possibili e immaginabili, mi aspettavo un'uscita tipo il lancio la sera americana del 22, quindi tipo da noi la notte o la mattinata del 23, invece hanno sposato praticamente alla mezzanotte, se non poco dopo, del 23 mattina sarebbe stato, quindi il gioco è uscito letteralmente il 23 di novembre. Ma non importa, sono riuscito comunque un po' a provarlo ed era un pochino un'occhiata a tutto quello che hanno potuto inserire. Avrei potuto anche inserire, se non sbaglio, il supporto ai controller con questo aggiornamento e l'ho visto nelle impostazioni, ma purtroppo non sono riuscito a far funzionare assolutamente nulla. Infatti il mio telefono non riconosce in bluetooth né i controller Xbox né quelli PS4, quindi mi sono arrangiato e ho detto vabbè dai vado a giocare con le mani che ritengo comunque parecchio parecchio scomodo e sicuramente abbastanza impreciso. So che comunque ci sono dei problemi anche con il supporto ai controller, tipo dovrebbe dare un leggero ritardo di addirittura un secondo nei comandi, quindi da essere veramente bruttino e non si possono neanche rimappare, quindi non si può mettere il tattico, non si possono cambiare alcune impostazioni. È una cosa un po' meno brutta, quindi spero magari possano nei prossimi aggiornamenti sistemarlo come si deve. Vedete innanzitutto in sottofondo quello che sarebbe il tutorial, che comunque è molto molto tranquillo, ci spiega proprio le basi di zombie. Ci sono un paio di cose aggiuntive in questa modalità, come poter comprare delle specie di leggeri bonus che abbiamo in basso a sinistra, alcuni che sono passivi permanenti anche da potenziare, altri che sono delle sottospecie magari di Gabble, Gamble, Lysir, potremmo chiamarli, tipo uno ti rende immune agli zombie per 20 secondi, piccole cose del genere che si acquistano con delle monete, che costano come al solito punti, quindi tutto quello che vedete in partita costa soltanto dei punti, c'è ovviamente la cassa, ci sono i perk e per adesso io ho giocato soltanto sopravvivenza illimitata, che appunto sarebbe sopravvivenza di cui avevano parlato alcuni leakers diverso tempo fa dicendo che avremmo visto anche la sopravvivenza infinita su zombie di mobile, perché all'inizio si parlava soltanto di quei raid o incursioni da 9 e 13 round con un boss alla fine, però tutti ovviamente volevano lo zombie classico con round infinite e poter giocare continuamente, quindi hanno messo quello, quindi ho subito giocato. Mi scuso anche dal fatto che in alto a sinistra c'è il contatore della registrazione, perché dovendo registrare molto in fretta una partita, se avete scaricato il primo programma che ho trovato, e mi sa che non ho tolto dalle impostazioni il fatto che ci sia a schermo il contatore o comunque il cronometro, quindi per fortuna è una posizione non troppo fastidiosa, però sappiate che appunto c'è questo piccolo contatore in alto a sinistra. La mappa che esce per adesso è sempre Shinonu, ma spero possano aggiungere o un hatch o alcune mappe di transit come città, fattoria o tutta transit direttamente, sempre veramente bello, però passando invece al concetto di sopravvivenza che c'è in questo gioco, non sarebbe giusto dire che è uguale al zombie classico, perché ci sono alcune differenze, ovviamente la modalità base è sempre la stessa, quindi sopravvivi a round infiniti, c'è una specie di limite di tempo che dovrebbero essere 160 minuti, 2 ore e 40, quindi comunque molto molto lungo, e c'è moltissimo tempo per farsi una partita veramente seria, però dopo un po' comunque va a finire. Anche per il fatto che è una cop fino a 4 giocatori e non si può per ora giocare in solo offline, lì penso che metterebbero a quel punto un tempo illimitato, perché se uno vuole farsi una partita veramente lunga può permettersi di farlo. Ovviamente con i controlli di Call of Duty Mobile, anche con un controller collegato, non è che siano proprio i più comodi, e il gioco comunque ricorda un World at War con una grafica leggermente aggiornata, però il gioco comunque è abbastanza macchinoso, ovviamente non perfetto, però da uno zombie su mobile non mi aspettavo chissà quale perfezione. E comunque è abbastanza carino, ci sono le armi a muro, c'è la cassa, ci sono i perk, ci sono i bonus. Una delle prime cose veramente strane che ho notato è il fatto che gli zombie sono veramente molto molto resistenti. Cioè con la pistola iniziale che è comunque abbastanza forte, già il round 3 inizia a fare abbastanza fatica a ucciderli anche sparando in testa. E questa cosa nei round successivi si nota veramente veramente tanto. Poi nei round successivi spawnano anche dei boss tranquillamente, il round dei cani, che è quello molto tranquillo, anche se ne spawnano praticamente tutti assieme contemporaneamente. E l'altra cosa strana appunto è che praticamente all'inizio del round gli zombie alcuni spawnano dalle finestre o dagli spawn tranquilli, come nella modalità zombie classica, altri letteralmente compaiono in mezzo alla mappa anche alle nostre spalle e ci attaccano fin da subito. È comodo per far partire praticamente subito il round e uccidere qualche zombie, ma in round di avanti diventa molto l'olto rischioso perché si ti spawnano 5 zombie alle spalle e sei praticamente già morto all'istante. Tornando invece a parlare dei boss abbiamo Avogadro, abbiamo gli zombie infocati di Shangri-La, abbiamo i Brutus, e specialmente il round dei Brutus è stato un pelino un trauma perché letteralmente ti corrono addosso e non dico ti sciottino, però comunque tolgono abbastanza e ti arrivano addosso praticamente 3 o 4 alla volta insieme anche ai cani, quindi a un certo punto se sbaglio tutti i miei compagni sono morti e mi sono trovato questa mandia di Brutus veramente molto veloci che mi sono arrivati addosso, è stato veramente molto molto faticoso, aggiungendo appunto al fatto che le armi fanno davvero poco danno, questi boss non hanno troppa vita ma bisogna sparargli abbastanza colpi alla fine, comunque un paio di caricatori volano via, anche già per uno zombie normale con un'arma tranquilla, già potete vedere qua adesso a schermo che l'M21 e BR che in realtà è sempre più un misto tra l'M21 e uno stingray, un'arma veramente strana, non è che faccia proprio tutto questo danno anche sparando 3 colpi in testa a round 3, non uccide, quindi una cosa veramente brutta, io sono andato se non sbaglio a round 13 o 14, dopodiché ho letteralmente quitato la partita perché non si stava più concludendo e stavo giocando da più di una mezz'oretta praticamente, e gli zombie iniziavano ad essere veramente molto resistenti, ad esempio con l'RPD si sparavano 60-70 colpi per uno zombie, avendo tipo 900 colpi in totale, finivamo i colpi davvero molto in fretta. Essendo push run uma purtroppo i perk che ho acquistato erano completamente casuali, ho trovato stamina, speed cola, double tap, electric sherry, che sono comunque abbastanza carini, la cosa particolare della double tap che è quella di Black Ops 1, quindi sparì solo più in fretta, e letteralmente qua spara il doppio dei colpi, tipo anche con il pompa allo striker sparava due colpi alla volta invece che uno, quindi consumi il doppio delle munizioni, fa veramente strano, però il danno in più si vede, la speed cola qua è molto comoda perché sparano tutti questi colpi, si ricarica di continuo, la sherry letteralmente stordisce gli zombie per un paio di secondi, molto comodo per anche solo scappare da una massa, e la stamina per correre con i mani un RPD sicuramente non mi lamento. Inoltre non ho capito se la cassa mi stava prendendo in giro oppure no, perché ogni tanto mi dava letteralmente la stessa arma che avevo in mano, tipo lo striker all'M21 me l'ha ridato parecchie parecchie volte, e praticamente non trovavo nessun'altra arma, me ne dava sempre le stesse 4 o 5 a rotazione, quindi non ho mai trovato la Reagan, la Wunderwaffe, o anche armi più decenti, a parte le un RPD e se non sbaglio uno striker, non ho mai trovato nient'altro di abbastanza forte, l'M4 non era nulla di che, ho ritenuto più forti alcune armi a muro come il PDV che ho trovato a muro che aveva tipo 700 colpi in tutto di base, quindi veramente molto molto forte. Concludendo possiamo dire che per essere un'esperienza su mobile comunque possiamo sicuramente apprezzarla, è certamente accettabile come surrogato di zombie se possiamo chiamarlo così, questo ovviamente per la sopravvivenza che però su console è veramente la sua esperienza massima, con tantissimi dettagli in più, è fatta veramente come si deve, in un gioco comunque come Call of Duty che è abbastanza rifinito e dettagliato, specialmente per la modalità zombie e con tutte le mappe che possiamo avere, anche solo in un Black Ops 3 con tutti i DLC, avendo 14 mappe, è chiaro che nonostante Call of Duty Mobile sia gratuito, quindi tutti possono provare l'esperienza zombie, specialmente comprando un Black Ops 3 anche in offerta con tutto quanto spendiamo una trentina di euro, e abbiamo un'esperienza che può durare centinaia se non migliaia di ore. Ho ritenuto comunque carina la partita che ho fatto per adesso come primissima partita su sopravvivenza, proverò sicuramente le due incursioni normali in hard con 9 e 13 round, per vedere anche i boss che ho visto soltanto in alfa e beta del gioco, sono molto curioso di vedere tutto quanto come funziona. L'unica cosa al momento che ho trovato strana è appunto la resistenza degli zombie, che mi sembra davvero esagerata, sono sicuro che vogliono limitare le partite dei giocatori in modo che non siano troppo lunghe, però già avendo una specie di cronometro di 2 ore e 40, che comunque per uno zombie magari più serio o per fare una partita più seria sono relativamente poche, perché comunque ovviamente non tutti possono giocare su mobile in cop per ore e ore a non finire, però se un paio di amici si organizzano anche giusto in 2 giocatori o in 4 vogliono fare una partita seria di 3 ore, praticamente ad un certo punto si concluderà da sola. O arrivate al round già 15, 14, 15 o 16, da quel punto in poi gli zombie sono praticamente immortali, comunque ci vogliono veramente tanti colpi, non sono tanti, inoltre c'è anche il contatore degli zombie rimasti che è molto molto comodo, però quando anche uno zombie ti richiede un caricatore di RPD e su Shinonuma non c'è un pack a punch, iniziano ad esserci veramente tanti problemi. Ma come detto anche nel mio video di ieri dell'esperienza di zombie che cambia sempre, questo è soltanto il day one, ci saranno tantissimi aggiornamenti su Call of Duty Mobile, che siano aggiornamenti di armi, di contenuti, che siano per multigiocatore, Battle Royale o anche solo per zombie, quindi aspetto di vedere nei prossimi aggiornamenti cosa possono inserire, cosa possono cambiare, darò sempre un occhio su questa modalità, perché comunque essendo su mobile chiunque può giocarci, mentre è in giro da qualunque parte, e avere una piccola esperienza di zombie, che ovviamente non è completamente identica, ma può avvicinarsi ad essere divertente. Fatemi quindi sapere ragazzi se voi per caso avete già provato zombie su mobile, come vi è sembrato sia abbastanza simile o troppo diverso, e se appunto vi ha divertito. Io ho giocato per adesso soltanto sopravvivenza e sono curioso di provare anche le altre due modalità, e magari in futuro gioceranno altre cose, come anche un dolore su mobile secondo me sarebbe molto molto divertente, anche se strano, o anche addirittura un trasformato, comunque tutte quelle modalità secondarie, che secondo me su mobile possono essere divertenti, anche perché giusto ci sono talmente tanti giocatori con un matchmaking fisso, che trovare le partite è veramente istantaneo, qua ci ho messo tipo due secondi per trovare una partita, e su molti giocatori è simile, ne bastano giusto un paio, trovi sempre una lobby piena, quindi sempre comodo per trovare tantissimi giocatori, e in qualche modo sempre giocare e divertirsi. Spero come sempre che vi l'oggi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio, ala. Un abbraccio, ala.